Terra Amara Anticipazioni Demir concede il divorzio a Zuleya. Sai che ti amo ancora, ma oggi mi arrendo e ti concedo il divorzio. Tutto avrà inizio dopo la tragica morte di Unkar, quando il Maz e Zuleya decideranno di fare un nuovo tentativo di fuga. Tuttavia, Mujgan segnala la scomparsa di Kerem e impedisce la coppia di fuggire, questo evento creerà una profonda frattura tra Fekeli e Yilmaz che sembrerà impossibile da sanare. Ali Ramet, ferito nell'anima dal tradimento del figlio, lo rinnega e lo allontana dalla sua casa e dalla sua vita per sempre. Successivamente, Fekeli, Demir e Mujgan riceveranno le lettere dagli Yilmaz, si tratta dei preziosi manoscritti che Aqqaia ha inviato a loro, da aprire dopo che lui, Zuleya e i bambini fossero lontani da Adana. Quando Fekeli inizierà a leggere le sincere parole del figlio in cui giustifica la sua partenza a causa dell'amore che prova per Zuleya e che gli è stato privato, suo punto di vista subirà un drastico cambiamento. Indubbiamente nessun altro può comprendere meglio di Fekeli il dolore di perdere l'amore della propria vita. Anche Demir attraverserà una situazione simile. Nella sua lettera, Aqqaia espone il danno che lui ha causato e tutto ciò che ha tolto a loro. All'inizio, Demir non reagirà positivamente alle parole di Aqqaia, ma presto arriverà a riconoscere che tutto ciò che è menzionato nella missiva è assolutamente vero. Nel frattempo, la dottoressa Mujgan sarà la meno sconvolta nel momento in cui leggerà la lettera del marito. Nella missiva rivolta a lei, Aqqaia riconoscerà la sua colpa per tutto ciò che è accaduto fra loro, ammettendo che non avrebbe mai dovuto sposarla quando in realtà era ancora profondamente innamorato di Zuleia. Anche se Yilmaz non potrà fare a meno di rimproverare la moglie per il suo atteggiamento verso la sua amata, la crudeltà con cui si è comportata negli ultimi tempi, e tutto ciò che è stata in grado di fare a causa dell'odio che nutriva verso Zuleia, alla fine con gli occhi lucidi di lacrime, la dottoressa arriverà a baciare la lettera di Yilmaz e commuoversi. Nel frattempo, Fichelli raggiungerà la fabbrica e si troverà faccia a faccia con suo figlio. Dopo aver letto le sue parole, tutto sta per cambiare. Yilmaz chiede al padre se Fichelli lo ha perdonato lui commosso risponde. Un padrino non potrebbe mai odiare il suo figlio. In quel momento, entrambi si abbandonano in un caloroso abbraccio, suggellando così la loro riconciliazione. È notte fonda e la lettera di Yilmaz ha portato a Demir una comprensione chiara di tutte le sofferenze che ha inflitto a sua moglie, sebbene il suo amore per lei sia immenso. Demir capirà che non basta. Questa consapevolezza gli arriverà proprio sulla tomba di Unkar. Pochi istanti più tardi, fa il suo ingresso Fichelli, il cui arrivo porta Demir a riflettere sull'importanza di saper correggere e rimediare ai propri errori in tempo utile. Ali spiega che la matriarca è stata una maestra in quest'arte, e ora è giunto il momento anche per lui di fare altrettanto. Demir ammette che tutto ciò che Yilmaz ha scritto nella sua lettera è veritiero. Ho causato un'enorme quantità di danni e ho più volte scatenato la mia ira su di loro. Fichelli consiglia a Demir di seguire le orme di sua madre e riparare ciò che una volta ha distrutto. Profondamente dispiaciuto, Demir finalmente apre gli occhi e vede la realtà. Zuleyha non mi ha mai amato e è arrivato il momento di lasciarla andare. La mattina seguente, durante la colazione a casa di Fichelli, quest'ultimo si ritroverà ad affrontare una conversazione pendente con il genitore di Kerem, mentre Beijè e Fichret osservano attentamente il dialogo. Il dottore si rifiuterà categoricamente di separarsi da suo figlio dopo ciò che Yilmaz ha tentato di fare. Tuttavia, Fichelli avrà un'idea per risolvere la questione. Infatti propone che Yilmaz e Mujgan procedano con il divorzio il prima possibile. Consentendo alla dottoressa di rimanere nella sua villa con il piccolo in questo modo, il bambino potrà vivere con sua madre e suo nonno. Mentre Yilmaz avrà la possibilità di visitarlo ogni volta che desidererà vedere suo figlio, permettendo inoltre al bambino di mantenere un legame con i suoi fratelli Adnan e Leila, Mujgan e Yilmaz d'accordo ringrazia Fichelli per il suo prezioso aiuto. Nel frattempo, in villa anche Demir sentirà il bisogno di avere una conversazione con Zuleya, la giovane donna si prepara al peggio. Per questo fa sapere a Demir che non si arrenderà mai e continuerà a cercare ogni opportunità per scappare e vivere liberamente il suo amore con Yilmaz. Sorprendentemente, dopo aver ascoltato queste parole, Demir non cercherà vendetta contro di lei, ma piangendo, confessa che lui si arrende, poi continua dicendo a sua moglie che le concederà il divorzio. Sebbene il mio amore per te sia ancora presente, oggi mi arrendo, ti concederò il divorzio, dichiara Demir Zuleya fatica a crederci. Mentre Demir le chiede di non nascondere la sua felicità, meriti di essere felici, ammette lui. Tuttavia, Demir pone una sola condizione che Leila resti con lui, Zuleya inizialmente non è d'accordo, ma Demir spiega. Esistono soltanto quattro persone che porto nel cuore, mia madre, tu Adnan e Leila, mia madre non c'è più, tu e Adnan andranno via da qui, non puoi portarmi via tutto. Leila sarà il motivo per svegliarmi ogni mattina. Demir inoltre chiederà a Zuleya di mantenere il rapporto con Adnan, poiché il ragazzo è diventato come un figlio per lui. La giovane infine accetta le condizioni di Demir e gli assicura che potrà vedere Adnan quando vuole, non c'è bisogno di preoccuparsi. Entrambi concordano sulla necessità di un divorzio rapido ed efficiente per risolvere la loro situazione il prima possibile e senza complicazioni. Poco dopo Demir avrà un incontro con Yilmaz durante il quale annuncerà. «Sono qui per fare la pace», inizia a spiegare agli Yilmaz le ragioni del suo comportamento nei confronti di Zuleya per tutti questi anni. «Se quando siete arrivati in villa avessi saputo che Zuleya amava te, non avrei mai nemmeno considerato di avvicinarmi a lei». Affermerà che quando ha incontrato Zuleya per la prima volta ha pensato che fossero fratelli, solo in quel momento ha iniziato a notarla, inoltre, sottolinea che quando ha scoperto che Zuleya era sposata, era già innamorato profondamente di lei. Yilmaz ascolta attentamente le parole e cerca di contestare alcune delle sue giustificazioni, ma Demir lo interrompe prontamente dicendo «Non sono qui per difendermi, lasciami spiegare». Poi continua e comunica la sua decisione di separarsi da Zuleya, esprimendo la sua approvazione dicendo che spera che la coppia riesca a trovare la felicità che avevano perseguito per tanto tempo, davanti allo sguardo attonito di Yilmaz. Così la coppia protagonista inizieranno a vivere la vita che hanno sempre sognato. Sembrerebbe che il destino ha deciso di dare a loro una seconda possibilità.